29 luglio 1981, nella cattedrale di St. Paul a Londra si celebra il matrimonio fra l'erede al trono inglese il principe Carlo e la giovanissima Lady Diana Spencer. Alla cerimonia partecipano 2500 invitati. La fastosa cerimonia è trasmessa in diretta in Mondovisione e seguita da circa 800 milioni di spettatori. A commentare l'evento per Rai 1 ci sono Sandro Paternostro e Bianca Maria Piccinino. Il matrimonio avrà una storia travagliata e infelice e sfocerà nel divorzio nel 1996.